Ciao ragazzi e bentornati a questa nuova puntata di Advanced Squad Leader Starter Kit Italia. Nella puntata precedente abbiamo analizzato la prima fase della sequenza di gioco che era la Rally Face. Se ricordate nella Rally Face sia il giocatore A attaccante sia il giocatore D difensore potevano eseguire delle azioni. Oggi andiamo a vedere la Prep Fire Phase che è prettamente una fase per il giocatore attaccante. Il giocatore attaccante potrà sparare a tutte le unità del difensore che sono in vista nella loss e nella gittata della squadra o delle proprie armi. La loss è fondamentale, cioè se si ha la squadra avversaria in vista si potrà sparare, altrimenti ovviamente non lo si potrà fare. La loss si potrà verificare nel caso solo dopo aver dichiarato il fuoco. Cioè una squadra, faccio un esempio, K6, vede la squadra in R2, magari dice ma la vedo o non la vedo, allora dichiaro io sparo a R2. Solo in questo caso qua si potrà vedere se vi sarà la loss libera, quindi la squadra attaccante vedrà la squadra in difesa. Questo perché? Perché magari ci saranno delle volte che le loss saranno in dubbio, quindi prima si deciderà se sparare o no e poi dopo si farà la verifica se l'attaccante vede il difensore o non lo vede. Alcuni terreni, tipo l'orchard, il frutteto, tipo il grano, tipo il bosco, creano indras allo sparo del giocatore A, del giocatore attaccante. Faccio un esempio, qua in K6 abbiamo detto che l'americano che è in fase A, l'attaccante, vede il giocatore D, difensore, in R2, decide di sparare. Ok? Decide di sparare, lo vede e spara. Se dovesse sparare in R3 per esempio, quindi dichiara io sparo come giocatore americano a R3, si guarderà la loss, come vedete la linea tocca il frutteto. Se vi ricordate bene in una delle puntate precedenti avevo chiarito, ho cercato di chiarire insomma la differenza tra il frutteto e il grano e il bosco. Il frutteto è frutteto tutto l'esagono, ok? Quindi come vedete qua per esempio, la linea rossa non tocca proprio il verde dell'albero di frutteto, però viene considerato frutteto tutto l'esagono. Quindi basta che tocchi una parte di esagono e lo sparo dall'attaccante al difensore avrà un malus, cioè avrà un hindrance, che è un più uno al tiro di dado dell'attaccante per colpire il difensore. Un DRM, ok? Un modificatore di dado. Il grano invece e il bosco sono due terreni che il grano crea hindrance, però crea hindrance solo se la linea rossa che abbiamo visto prima tocca il giallo. Se per esempio la linea rossa passa da 8, però tocca 8, ma non tocca il giallo, non si avrà hindrance. Stessa cosa, ovviamente il bosco a differenza del frutteto e del grano blocca la loss, come se fosse una casa, però se la linea passa da J7, ma non tocca il verde dei cespuni di albero, la loss è presente, cioè c'è la linea di vista, c'è tra attaccante e difensore. Dovesse per esempio da I7 a K8, la loss, qui in questo caso qua tocca il verde, sarebbe bloccata. Nel grano e nei frutteti, se passa, non viene bloccata la loss, ma ci sarà un hindrance di più uno al tiro. Se le hindrance sono 6, no sono più di 6, quindi faccio un esempio adesso, non so se da T1, adesso vedo se sono 6, 1, 2, 3, 4, 5, no non ci arrivano, sono comunque 7, c'è le hindrance tra frutteto e grano, si hanno 7 hindrance, sono talmente tanto gli ostacoli che non si avrà più visuale tra attaccante e difensore. Altra cosa, vi è anche un più uno di DRM, nel caso in cui una squadra decida di buttare fumo nel proprio esagono e spara dall'interno dell'esagono a fuori, avrà un più uno anche qui per hindrance, perché anche il fumo, ok, adesso vediamo, anche il fumo, e questo qua è lo smoke granite, ok, diciamo che questa squadra che è elite, che ha 3, come vi ricordate il 3 sopra al firepower, è il numerino che serve con un dado, 3 o meno, si dichiara il lancio di fumo, quindi si spende un fattore in movimento, si butta il fumo, il fumo, ok, sparare da dentro il fumo a fuori si avrà un più uno, se il fumo verrà gettato per esempio in N4 e l'americano sparerà, faccio un esempio a R5, si avrà più due per lo smoke, più tre, quindi due, tre per il frutteto in O5 e secondo me anche il frutteto in Q5, quindi io dichiaro lo sparo, andiamo a vedere, come vedete tocca N4 che c'è il fumo, O5 che c'è il frutteto e G5 che c'è il frutteto, quindi lo sparo americano avrà un DRM, un modificatore al dado, di più 4, ok, questo è quello che riguarda la loss, per quanto riguarda la gittata, vediamo, se vi ricordate, ogni pedina ha 6 il firepower, adesso sto guardando K6, 6 firepower, 6 la gittata e 6 il morale, quindi questa squadra qua che decide per esempio di sparare a R2, alla squadra 447 tedesca, dichiara lo sparo insieme alla machine gun, quindi sparerà 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la gittata massima, e la squadra avversaria è a 7, quindi la squadra potrà comunque sparare a R2, però invece che sparare con la forza massima, che sarebbe, fino a Q3, sparerebbe a 6, a R2 spara alla metà, quindi spara con 3, ok, a differenza della propria machine gun, della propria militariatrice, che ha 4 di potenza ma 10 di gittata, quindi essendo la squadra avversaria a 7 esagoni, questo sparo sarebbe un 4 più 3, sarebbe quindi un 7 più 0, perché non c'è indrass, non ci sono ostacoli, non c'è niente, ok, questo è molto importante per quanto riguarda la gittata, cosa, altra cosa importante è che nella prep fire, ok, facciamo un esempio così, a differenza della fase che avverrà dopo, che è la fase di movimento, nella prep fire, quando il giocatore attaccante spara a un esagono, spara a tutti, tutte le squadre, a tutti gli avversari presenti nell'esagono, quindi nel caso in cui l'americano spara a R2, andremo a vedere, a analizzare poi dopo anche cos'è la IFT, che è la tabella di fuoco, mettiamo che la squadra tedesca deve fare un normal moral check, cioè un check di morale, lo faranno entrambe le squadre, ok, perché nella prep fire lo sparo colpisce tutto l'esagono. esempio, altro esempio delle cose importanti sono i leader, i leader come abbiamo detto danno un modificatore allo sparo, ok, danno un modificatore allo sparo, aiutano nel caso di recupero, insomma, se c'è, si dichiara uno sparo, come abbiamo detto prima, da Nm4 a R5, abbiamo visto che adesso il fumo non c'è più, quindi abbiamo due hindrance, che è O5 e Q5, quindi abbiamo già un più due di modificatori al dado, quindi la squadra sparerà con una forza di potenza di 7. Il leader partecipa allo sparo, quindi darà un meno uno al tiro di dado, quindi più due, meno uno, la squadra sparerà con un 7 più uno sulla tabella di fuoco, ok. Qua per esempio abbiamo un leader 7.0, ok, quindi facciamo che K6 spara al gruppo in R2, voi vi chiederete, ma il leader 7.0, cioè non dà, a differenza dello sparo di prima, nessun bonus alla squadra a sparare, vero? Il leader 7.0, vabbè, innanzitutto i leader sono importanti, perché come abbiamo visto i leader servono per recuperare le squadre, quindi anche se siamo un 7.0 è comunque fondamentale, ma una cosa molto particolare nel momento dello sparo è che non, se si ha un leader che partecipa al fuoco, non si avrà covering, il covering cos'è? Nel momento in cui io decido di sparare da K6 a R2, tiro i dadi e vengono due dadi doppi, cioè 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 e 6-6, ok, adesso qua apriamo la IFT, ok, vediamo che qui abbiamo detto che spariamo con un 6 che diventa 3 per la distanza, che è maggiore di 6, quindi 3 più 4, 7, il 7 non esiste, quindi spariamo nella colonna del 6, il leader partecipa comunque allo sparo, alla coordinazione dello sparo, ok, mettiamo che facciamo 3 e 3, 3 col dado rosso e 3 col dado bianco, quindi andiamo nella colonna 6, 3 e 3 fa 6, quindi avremo un moral check con il più 1, ok, al dado, però avendo fatto doppio, in teoria dovrebbe esserci il covering, il covering cos'è? Cioè nel momento in cui si ha covering viene, c'è uno shift di meno 1 di colonna, quindi andremo nel 4, quindi 6 nel 4 sarebbe un normal moral check, ma in questo caso avendo il leader che coordina lo sparo, il covering non avviene, quindi avere un leader che coordina lo sparo, oltre a un eventuale bonus al DRM perché è un leader 9-1, 9-2, dà la possibilità di non avere, di non subire covering, quindi diamo il caso che il leader non fosse steccato con la squadra in K6 che spara, che abbiamo detto che spara con 3, più 1-4, 7, fa 2-2, fa 4, quindi nella colonna del 6 fa 4 che è un 2 moral check, però non avendo il leader fa covering, quindi si shifta di una colonna sinistra, invece che 2 moral check, quindi che il difensore deve tirare, fare un check morale con un più 2 al dado, lo farà solo con un più 1 al dado, quindi molto molto importante. Il covering, una cosa importante, anche questa, che tutte le squadre shiftano di 1 in caso di covering, tranne i coscritti, che sono quelli, non so se li ho tirati fuori, i coscritti, ne va a vedere, sì, tipo il coscritto, che è questo, che invece di una colonna shifterà di 2, quindi se spara, adesso in questo caso qua ha 4, ok, di firepower, quindi si userà la colonna 4, se fa un 2-2, ok, che farebbe 4, un moral check scalerebbe di 2, ok, se fa per esempio 3-3, che sarebbe un normal moral check, scalerebbe di 1, se fosse una squadra di prima, di seconda linea, ok, ma essendo coscritta andrà nella colonna 1, quindi il difensore non subirà danni, questa è una cosa abbastanza importante, ok. Allora, per quanto riguarda la prep fire, nel momento in cui una squadra dichiara lo sparo, si marcherà con prep fire, ok, con questa pedina qua, questa pedina qua, questa squadra qua verrà marcata con prep fire, le squadre che sparano nella prep fire, non potranno né muoversi nella movement phase, ok, quindi chi spara nella prep fire non potrà muoversi nella movement phase, e non potrà fare fuoco nell'advance fire phase, che è anche questa, come vedete, arancione, ed è una fase che fa il giocatore A, ok, il giocatore attaccante. Potrà, alla fine dell'advance fire phase, i prep fire verranno fuori, verranno tolti, ok, ma quello lo vedremo poi più avanti. Quindi verranno marcate tutte le squadre che spareranno, verranno marcate con prep fire. Per quanto riguarda i modificatori allo sparo, i modificatori allo sparo sono innanzitutto il point blank fire, praticamente è il fuoco ravvicinato, faccio un esempio, ok, siamo in questa situazione qua, l'americano dichiara lo sparo, ok, quindi prep fire, sparo ovviamente al difensore che è in R5, sarebbe 7 più 0 come modificatori, perché è in campo aperto, fermo, non ci sono ostacoli, diciamo, però essendo nell'esagono vicino, il fuoco viene raddoppiato, quindi invece che 7 sarà 14 e si userà, invece che 7 che non c'è, quindi 6, si userà 14 che non c'è e quindi la colonna 12. Questo è uno dei primi modificatori che si hanno nello sparo. Come abbiamo visto, un altro modificatore è il long range, cioè nel caso in cui una squadra che ha 6 di raggio spara 7, verrà dimezzato come sparo, nel momento in cui si spare, se ha un leader che partecipa allo sparo, darà il bonus eventuale del leader, quindi meno 1 allo sparo. Vi saranno i modificatori di terreno, facciamo un esempio, i modificatori di terreno sono che il giocatore tedesco è qua, l'americano decide di sparare al giocatore tedesco che è in casa, quindi la casa in pietra ha un valore protettivo di 3, cioè di modificatore al dado di 3, però la linea, come vedete, tocca T5, come abbiamo visto prima, il frutteto viene considerato tutto l'esagono, quindi toccando parte dell'esagono di T5, darà Indras, quindi ci sarà un 3, perché la squadra tedesca è in una casa di pietra, più 1 per l'Indras, quindi l'americano deciderà, dichiarerà lo sparo, con 7, più 1 al dado per l'Indras, più 3 al dado per la casa, quindi sarà un più 4, però avendo il leader, avrà un meno 1, quindi da più 4 andrà più 3, tirerà sulla IFT, che è questa, ok, proviamo, facciamo un esempio, 5 più 1, 6, allora, 7, 6, quindi il 6 è un moral check, più 2, avrà un pin task check, ok, il pin task check è praticamente una prova di morale, che non so se non l'abbiamo vista le altre volte, quindi la squadra tedesca dovrà subire un pin task check, che è qui, task check, che fa 5 e 4,9, che quindi è superiore al loro morale, e verrà pinnato, il pin verrà marcato con pin, e questo pin è un malus abbastanza pesante, cioè la squadra tedesca, nel momento in cui dovrà sparare, sparerà innanzitutto a metà, quindi avrà il fuoco dimezzato, non potrà muovere, e non potrà neanche avanzare nella fase di avanzata, nel caso sia il giocatore attivo, ok, adesso andremo a vedere appunto i risultati della IFT, come abbiamo detto qui abbiamo tutti i possibili risultati di dado, ok, 1, 2, 3, 4, 9, fino al superiore a 15, qua abbiamo tutti, la potenza di fuoco, il fire power, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 30, eccetera, e qua abbiamo tutti i risultati, incrociando ovviamente il dado, che è 5, faccio un esempio, con fuoco 2, l'incrocio viene un normal moral check, ok, mettiamo che abbiamo 16 di fuoco, di potenza di fuoco, e facciamo 6, verranno 2 moral check, ok, andiamo ad analizzare tutti questi risultati, allora, il primo è il KIA, ok, il KIA è molto semplice, è l'eliminazione da parte di una squadra, ok, quindi se viene un KIA, spariamo in un esagono, dove c'è una squadra, il difensore ha una squadra, io tiro, e viene fuori un KIA, la squadra muore, che sia mezza squadra, la squadra muore, ok, mettiamo che ci siano 2 KIA, perché io sparo in un esagono, che ci sono 3 squadre avversarie, 2 moriranno, ok, la terza squadra, cioè quindi tutte le squadre, che rimarranno nell'esagono, che non hanno subito KIA, cioè che non hanno subito la morte, ok, si romperanno, e diventeranno DM, ok, con quel segnalino blu, che abbiamo visto questo qua, che è morale disperato, che darà poi un malus, nel momento del recupero, ok, questo è per quanto riguarda il KIA, il K, qua abbiamo K1 e K2, per esempio, ok, il K1, cosa vuol dire, casualty reduction, cioè una squadra, subirà casualty reduction, casualty reduction, dimezzerà una squadra intera, quindi una squadra, e diventerà mezza squadra, e una mezza squadra, e muore, ok, se abbiamo più squadre, faccio un esempio, abbiamo tre squadre, e qua c'è K1, ok, K vuol dire che, una di queste tre squadre, subirà una casualty reduction, per decidere, quale sarà, quella delle tre, che subirà il danno, perché ci potrebbero essere, anche due squadre, un leader, e si fa, un tiro di dado, per vedere, chi subisce, delle tre, un tiro casuale, di dado, per capire, chi delle tre, subisce il danno, se è una squadra, diventa mezza squadra, se è mezza squadra, diventa, muore, e se è un leader, viene ferito, se non ricordo male, ok, tutte le altre squadre, che rimarranno, che non subiranno, la casualty reduction, ok, quindi mettiamo, che abbiamo tre squadre, la squadra A, la squadra B, la squadra C, tiriamo i dadi, e risulta che la squadra A, subisce casualty reduction, quindi, da squadra, diventerà mezza squadra, tutte le tre squadre, quindi la mezza squadra, e le altre due squadre, dovranno fare, un moral check, con un 1 al dado, in questo caso, lo faranno con due, in questo caso qua, con un 3, con un più 3 al dado, ok, e, stavo pensando, se ho detto tutto, ok, poi c'è, il moral check, c'è, il normal moral check, che è un test, una, una prova di morale, da parte delle squadre, che subiscono, appunto, questo fuoco qua, e non avranno, un modificatore al dado, perché è un normal moral check, quindi, una squadra, come abbiamo visto qua, facciamo un esempio, facciamo che, la squadra in K6, spara a R3, a R2, ok, viene un risultato, di, adesso disparerebbero, abbiamo detto, con 3, 4, 5, 6, 7, ok, non c'è il lead, quindi 7, 6, mettiamo che venga 7, il tiro di dado, quindi sarà un normal moral check, normal moral check, vuol dire che, prima la squadra in alto, poi la squadra in basso, tireranno due dadi, facciamo un esempio, vediamo, 1, 1, vabbè, quindi siamo, quindi, è inferiore a 7, 5, e 3, 8, è superiore a 7, quindi, andrà, brecca, e andrà, in DM, la squadra che ha fallito il morale, ok, questo è il normal moral check, ci sono degli altri moral check, che hanno però, un modificatore al tiro di dado del morale, che in questo caso qua è 1, in questo caso è 2, ok, quindi se una morale 7, facciamo che c'è un moral check, una morale 7, e fa 7, ok, che sarebbe il suo morale, però avendo un più 1, va a 8, e quindi avendo morale 7, si rompe, nel caso in cui, come in questo esempio qua, abbiamo un normal moral check, io ho morale 7, e tiro 7, ok, la squadra viene pinnata, cioè nel momento in cui tu superi il morale, però della stessa, dello stesso numero della tua forza di morale, vieni pinnato, ok, quindi da 6, 5, 4, 3, 2, superi il check di morale, se fai 7, vieni pinnato, se fai 8, 9, 10, 11, 12, subisci, un tbrecchi e diventi dm, ok, allora stavo guardando, moral check, ecco cose importante, nel momento in cui, facciamo un esempio qui con i tedeschi, esempio di prima, quindi K6 spara a R2, viene un risultato di normal moral check, ok, quindi, la squadra, il primo a dover provare sempre, come abbiamo detto prima, uno sparo nella prefire, colpisce tutti quelli presenti nell'esagono, ok, questa è una cosa molto importante, quindi, colpendo tutte e tre, il primo a dover fare il moral check è sempre il leader, il leader quindi tira, ok, mettiamo che faccia 8, quindi il suo morale è 9, supera il morale, passa la seconda squadra, che dovrà tirare un 7, però, avendo il leader con sé, avrà una mano, del valore del leader, quindi, tirerà un dado, per il moral check, con un 7, meno 2 al dado, quindi potrà fare anche 8, se dovesse fare 8, che in teoria dovrebbe rompersi, perché è superiore al morale, però avendo il leader che le dà una mano, quindi sarebbero 8, 7, 6, è minore del suo morale, quindi passa il moral check, e stessa cosa, altro tiro di dado, della seconda squadra, steccata con l'altra squadra, il leader, stavo guardando, che mi sono fatto un, abbiamo detto, spunto, se fallisce il morale, vengono rotte, e breccate, ok, con il DM, l'abbiamo visto prima, solo la squadra rotta, il DM, quegli altri, ovviamente, il DM non interessa, perché non dovranno recuperare, ok, ok, se, faccio un esempio, questa squadra qua, spara qua, e, il leader, la prima squadra, supera il morale, ma la terza no, si rompe, se un'altra squadra americana, va in prep fire, e spara sempre, a questa, esagono qua, quindi, verrà fuori un atto, normal moral check, mettiamo che il leader passa, l'altra squadra passa, e la terza fallisce, il moral check, essendo, essendo broken, si dimezzerà, ok, quindi diventerà, ok, da squadra, a mezza squadra, se la andiamo a girare, vedete, che è diventata una mezza squadra, prima era una 447, cioè, diventerà una mezza squadra, di seconda linea, ok, nel caso in cui, io devo fare un normal moral check, ok, come abbiamo visto prima, vediamo questa situazione qua, K6, va in prep fire, mi spara, normal moral check, il leader, lo passa, la seconda squadra, con il supporto del meno 2 del leader, lo passa, la terza, tira, fa 6, più 6, 12, questo è un risultato, sfigatissimo, ok, nel momento in cui, si fa 12, avviene la casuality redaction, ok, quindi questa squadra, in automatico, muore, no, si, non mi ricordo, la casuality redaction, in cui, in un normal moral check, c'è un 12, 6, più 6, una squadra in buon ordine, subirà la casuality redaction, una squadra rotta, sarà eliminata, e comunque ci sono, delle tabelle che, comunque, andrete a vedere, spero che, che riusciate a non andarle mai, a consultare, perché, il 12 è veramente, veramente, veramente massacrante, andiamo avanti, e, ok, cosa importante, cosa importante, è le ELR, le ELR, diciamo, è quel livello, adesso ho una traduzione in italiano, non so, è quel livello, dove le unità, riescono, a, a mantenere, la loro, il loro grado, diciamo così, faccio un esempio, in tutti gli scenari, di ASL, e, di fianco al, il piazzamento, così, ci sarà, tra parentesi, scritto, ELR, faccio esempio, 2, ok, cosa vuol dire, che, che la squadra, di quella, di quella parte, faccio un esempio, quella tedesca, ELR 2, può fallire, al massimo, il, la prova morale, di 2, per non subire, un abbassamento, di gradi, di, di squadra, quindi, mettiamo che, questa squadra qua, in N, 2 subisce, il fuoco, da parte di, questa squadra qua, di questo gruppo qua, prep fire, spara, normal moral check, ok, normal moral check, è 7, questa squadra, ok, tira, eh, 10, ok, quindi, è, superiore a 3, del valore, che aveva come morale, quindi, ha superato, questa ELR, che era di 2, cosa succede, che la squadra, oltre a rompersi, perché ovviamente, era superiore, al, al proprio morale, subirà un declassamento, ok, adesso non so, se c'è qua, qua, ELR, ok, diventerà, una, cos'era, una seconda, era, diventerà una coscritta, quindi, un elite diventerà una prima, una prima diventerà una seconda, una seconda diventa coscritta, quindi, oltre a rompersi, a causa del fuoco nemico, si romperà, prenderà il DM, ma, avendo fallito, di, superando il limite massimo, che verrà dato da ogni scenario, avrà il proprio numero, eh, bisogna guardarci, sono delle volte, c'è due, c'è tre, c'è quattro, e, subirà anche un declassamento, ok, cosa importante, questa è una cosa che io, spesso, sono sincero, mi, mi scordo anche di fare, prep fire, la squadra spara, come al solito, in, in R2, quindi spara, normal moral check, il leader, break, non ha superato, il, il moral check, toccherà la mezza squadra, che ovviamente, non, sarà aiutata dal leader, perché è rotto, quindi non, non avrà il meno due al dado, ma mettiamo, faccia, tre, quindi supera, ok, il leader, essendo, breccato, le squadre, che sono, nello stesso esagono, del leader, subiranno, un ping task check, se avranno, il loro morale, inferiore a quello del leader, quindi il leader, che aveva nove, ok, questa squadra qua, che ha superato, sì, il task check, il moral check, il test di morale, però, essendo il leader, che si è rotto, quindi le squadre, vanno un po', rischiano di, insomma, il loro leader, il loro capo, diciamo, brecca, loro no, ma vedono il loro leader, che è breccato, e vanno, potrebbero andare in crisi, sul campo di battaglia, quindi potrebbero subire, un ping task check, tireranno, quindi, un ping task check, sul morale di sette, se lo falliscono, diventeranno, quindi, se faranno otto, diventeranno pinnet, ok, quindi, avranno, la forza, il fuoco a metà, non si muovono, e non avanzano, ok, mettiamo il caso, che il leader muoia, ok, mettiamo il caso, che, il, si spara, il leader, viene, rimosso, ok, quindi, questa squadra qua, che aveva, il proprio leader, e vedono morire, il proprio leader, e, sono costrette, a fare, un normal moral check, quindi, faranno un normal moral check, che se lo falliscono, ovviamente, breccano, ok, si gira la pedina, edm, più 4, altre cose da dire, sinceramente, non mi vengono in mente, non mi vengono in mente, spero di essere stato chiaro, ragazzi, se avete domande, se avete domande, o avete, ho fatto qualche errore, scrivetemelo, ditemelo, vi ricordo sempre, il forum, il sito, di ASL Italia, e poi, vi volevo far vedere, anche questa, adesso ve la faccio vedere, questa, me l'ha dato un ragazzo, a Karimate, a Karimate, c'è stato un meeting, a Karimate, qua a gennaio, e, dove, praticamente, viene riassunto, tutto un po', il discorso, della Prefire, ok, qua, bene o male, penso, stavo, stavo dando un occhio, se avevo, detto un po', un po' tutto, ecco, appunto, come abbiamo visto, l'LPTC, l'LLMC, leader in good order, ovviamente, per dare, l'aiuto, il leader, deve essere sempre, in good order, e non pinnet, non con il pin sopra, penso di aver detto tutto, ragazzi, quindi io, a sto punto qua, vi saluto, e poi ci vediamo, alla prossima, dove andremo, ad affrontare, il discorso, della Movement Face, qua, mi sa che farò, dovrò fare, secondo me, un paio di, di video, perché è abbastanza lunga, il discorso del movimento, perché, nella fase di movimento, chi non avrà sparato, nella Prefire, quindi il giocatore, ha in fase, dovrà muoversi, e il difensore, questo è l'unico momento, dove, l'attaccante muove, il difensore, e spara, all'attaccante, comunque, lo vedremo, nella prossima puntata, ragazzi, grazie mille, e ci vediamo presto.